Siamo in ritardo di almeno un secolo con le costruzioni antisismiche, così Maria Teresa Fagioli, presidente dell'Ordine dei Geologi della Toscana. La serie dei terremoti che ha colpito l'Italia centrale ha riportato il tema della sicurezza sismica di tragica attualità e per la presidente Fagioli quella che manca è la prevenzione. Non possiamo prevedere l'anno, il mese, il giorno e l'ora in cui i terremoti avverranno, dice Fagioli, ma abbiamo conoscenze della struttura della terra e dati statistici affidabili che ci assicurano che crisi come l'attuale o peggiori ci saranno e per questo abbiamo il dovere morale, civile, legale, politico di fare il possibile perché le crisi facciano il minor danno possibile. Tutta l'Italia è un territorio fragile, delicato, vulnerabile sia dal punto di vista idrogeologico che sismico e la Toscana non fa eccezione, dice Fagioli, in materia di studi di microzonazione ed effetti sismici locali siamo tra le regioni più avanzate. Proprio per questo sappiamo con certezza che la stragrande maggioranza del patrimonio edilizio esistente non è in grado di reggere ai terremoti che ci saranno e anche nelle aree ad alta sismicità edifici sensibili tipo scuole sono solo nel 10% dei casi antisismiche. Riguarda i borghi medievali, rinascimentali settecenteschi ed ottocenteschi sparsi sull'appennino, dice Fagioli, per metterli in grado di sopravvivere terremoti attesi ci vogliono investimenti. È bene lavorare con la protezione civile, continua Fagioli, ma è anche meglio lavorare tanto in prevenzione. È del 27 ottobre il via libera del Senato al disegno di legge che attiverà interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche. Il governo ha finalmente riconosciuto, conclude Fagioli, che i geologi servono e non devono scomparire, ora però è necessario anche utilizzarli e utilizzarli bene. Grazie. Grazie.